La storia della nostra azienda è una storia di acquisizione di rette fatta nel tempo, siamo nati nel 61 a Roma con un primo supermercato, poi siamo cresciuti nel tempo per arrivare a coprire oggi tutto il territorio nazionale con circa 1700 punti vendita dislocati appunto dappertutto. Lavoriamo con tre format, dalla superetta, dal negozio di vicinato al piccolo ipermercato, ipersimpli, con una superficie di 3.000-4.000 metri quadri dove proponiamo veramente di tutto di giù per poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Quindi una storia di successo, abbiamo sempre ascoltato le esigenze dei nostri clienti e siamo poi riusciti a cogliere tutte le innovazioni per soddisfarli sempre al meglio. Sono anni di crisi, noi siamo partiti già dal 2004 perché avevamo già visto all'epoca delle difficoltà, già preannunciate anche le difficoltà nei consumi eccetera, dal 2005 abbiamo iniziato al percorso di rivisitazione dei nostri format commerciali. Abbiamo rinnovato creando un nuovo concept Simpli che voleva coniugare le necessità di convenienza con le necessità anche dei clienti di riuscire a fare la spesa in un luogo piacevole dove poter risparmiare ma anche provare del piacere nel fare la spesa. Siamo giunti, quindi per fortuna che abbiamo fatto questo perché abbiamo poi rinnovato tutta la nostra rete di punti vendita in tempi anche non sospetti e oggi devo dire che i clienti ci stanno ricompensando con la loro frequenza e con gli acquisti sempre più importanti che fanno da noi perché trovano veramente di tutto e di più anche nella soddisfazione dei bisogni un po' più particolari. Io dico sempre che il cliente deve giustamente fare le sue scelte e le scelte si fanno davanti allo scaffale. Da noi, davanti ai nostri scaffali si può veramente trovare tutto quello che serve, i prodotti per soddisfare i bisogni di risparmio, tanto è vero che tra qualche settimana avanceremo una nuova linea di prodotti che chiameremo Simpli Basic che potranno soddisfare questo bisogno di risparmio fino a trovare dei prodotti sempre a nostro marchio per soddisfare esigenze un po' più particolari. Abbiamo lanciato una linea di 100 referenze a marchio Passioni Simpli proprio andando a cogliere con alcuni fornitori delle chicche di mercato. Poi chiaramente ci sono sempre le promozioni e sappiamo che in Italia il consumatore italiano è molto di otto di promozioni, noi proponiamo tutti i giorni, tutte le settimane, durante tutto l'anno delle promozioni su tutti i prodotti di marca conosciuta o di marca a nostro marchio dove poter effettivamente fare del risparmio e riuscire a soddisfare il budget di acquisto perché sempre di più il cliente si fa un budget e non vuole superare. Da noi può effettivamente rispettare questo bisogno.